Madonna, ma che giorno è oggi? Non mi ricordo più. Non c'è voglia di andare a guardare sul cellulare. Sto facendo altre cose adesso. Che noia, ascolterei un po' di notizie, ascolterei un po' di cose... Ah, ma c'è Google. Potrei utilizzare Google? Ehi Google! Come va? Come va? Stavo ridendo alle mie barzellette. Forse se le raccontassi a te sarebbe meno imbarazzante. Ehi Google! Dimmi le notizie. Ecco le ultime notizie. Ehi Google! Stop! Ehi Google! Che giorno è oggi? È venerdì 3 novembre 2023. Ehi Google! Alza il volume! Ehi Google! ci sei? Mi stavo proprio chiedendo di oggi. Ehi Google! Fammi ridere! Se vuoi ascoltare qualcosa di molto divertente, questa farà a caso tuo. Qual è il colmo per un vocabolario? Non essere di parola. Ehi Google! Ehi Google! Quali sono le routine di oggi? Ehi Google! Ci sei? Ci sei? Ehi Google! Perché non rispondi? Ehi Google! Tu non capisci quando parlo! Ehi Google! Ehi Google! Grazie.